C'è un rapporto conosciuto fra risorse da impegnare nelle opere pubbliche e ricaduta occupazionale. Parliamo dunque davvero di un bilancio occupazionale straordinario che possiamo determinare e parliamo soprattutto di una riqualificazione ambientale che può fare di questo nostro territorio uno dei luoghi più interessanti dal punto di vista dello sviluppo turistico. Dal punto di vista delle opere singole almeno per quanto riguarda la città comune capoluogo finanziamo il ripascimento del litorale quindi la spiaggia su tutto il lungomare di Salerno fino a Ponte Cagnano in pratica moltiplichiamo per cento l'intervento che abbiamo fatto sulla spiaggia di Santa Teresa. Finanziamo il completamento del palazzetto dello sport che è l'unica delle grandi opere che è rimasta incompiuta e avremo la possibilità di estendere la metropolitana di Salerno fino all'aeroporto di Salerno Ponte Cagnano. La regione rileva l'aeroporto che hanno fatto fallire quindi nella ricapitalizzazione che faremo la regione assumerà la maggioranza. Completiamo il collegamento fra metropolitana e università. Raddoppiamo la Salerno Avellino. Credo che sia davvero un programma imponente di investimenti. La stessa cosa per la provincia. Confermiamo grandi opere, confermiamo grandi progetti, confermiamo grandi assidiari con alcune cose particolarmente interessanti. La viabilità nella costiera Amalfitano-Sorrentina, la metropolitana leggera nell'agro Sarnese-Nocerino, tutta la viabilità del Cilento. Saremo chiamati ad uno sforzo gigantesco dal punto di vista progettuale, amministrativo ed organizzativo. E tuttavia la sfida è questa. Adesso le risorse le abbiamo. Dipenderà dalla capacità di organizzazione e dalla concretezza amministrativa saper cogliere questa opportunità storica. Lei ha detto anche attenti a non perdere tempo perché i fondi verranno persi. Le regole che abbiamo stabilito saranno rigorose e varranno per tutti. Per Napoli, per Salerno, per Avellino, per Caserta e per Benevento. Chi non sarà in grado di spendere queste risorse le perderà perché tempo da perdere non ne abbiamo. Quindi o si sostituirà la Regione o le risorse saranno spostate su altri obiettivi e su altri territori. Mi auguro ovviamente che Salerno sia in prima fila nella sfida per l'utilizzazione dei fondi europei e mi auguro che ci sia un'amministrazione in grado di spendere le risorse e di aprire i cantieri, oltre che di chiacchierare. Ma credo che saremo in grado di vincere questa sfida. mi interessa sottolineare che è un'occasione storica. Non tornerà mai più. Lei ha detto una sfida per la Campania ai fondi equilibrati sulle province della Campania. Si punta ovviamente a lanciare un appello agli imprenditori al tessuto produttivo dell'intera Regione. Lei ha detto che noi sburetrizzeremo una serie di pratiche. Già abbiamo cominciato. Voi sapete che abbiamo semplificato la normativa antisismica per piccoli interventi. Tanto per dirne una, per mettere le cabine sulle spiagge bisognava fare la certificazione antisismica, cioè idiozie pure. Quindi abbiamo una semplificazione burocratica che andrà avanti. Ovviamente anche gli investitori devono essere pronti. Devono aprirsi anche a progetti di finanza, quindi avanzare anche progetti da realizzare con capitali privati. Ma insomma, capiscono benissimo che questa è davvero un'occasione storica anche per l'imprenditoria della nostra provincia, della nostra città. C'è anche il completamento della Vestana? Certo. Avremo delle emergenze forse a affrontare prima, perché arrivano notizie preoccupanti in queste ore, crolli, strade che saltano. Innanzitutto dobbiamo far rispettare i tempi di quattro mesi all'impresa che sta realizzando la Cientà. Fra qualche settimana vado anche lì sul cantiere, mica mi sono dimenticato. Quindi andremo a dare fastidio anche a questi. Lei ribadiva che tutte le grandi opere di Fatti Assaperno sono complete o stanno in fase di completamento, a parte il palazzetto. Proprio di ieri è la notizia, ad esempio, che cresce per il Via Libra definitivo anche dalla Cassazione. Ma no. Ma no, ma che... Ha visto come siamo stati bravi. Quanti anni abbiamo perso? Quattro anni. Nell'intervento fra Piazza della Libertà e Crescent ci sono 2.000 posti di lavoro perduti. 2.000 posti di lavoro più, questo per la verità per un errore tecnico progettuale, 1.000 posti auto di parcheggio, 700 interrati, 300 al di fuori dell'area del Crescent. Ma si può vivere in una città nella quale, avendo la possibilità di creare 2.000 posti di lavoro e di dare alla città 1.000 posti auto di parcheggio interrati, perdiamo tempo nelle battaglie finto ambientaliste. È qualcosa che fa stare male. Comunque, questo è il passato. Andremo avanti, andremo avanti e vedrete che la riqualificazione in tutta quell'area diventerà un polo di attrazione per l'Italia e per l'Europa. Non c'è in Europa un attracco per navi da crociera bello come quello realizzato con la stazione marittima di Zadid. Uno dei progetti che finanzieremo è ovviamente il prolungamento del molo Manfredi per poter accogliere non solo tre navi contemporaneamente, ma anche navi di classe superiore, cioè navi da 100.000 tonnellate, per intenderci, da 5.000 viaggiatori. Stiamo costruendo un destino produttivo. Mi è capitato di sentire qualche battuta di questa campagna elettorale un po' sgancherata qui a Salerno. Poesie, chiacchiere a ruota libera. Qualcuno si sta domandando di che cosa deve vivere la città e chi è in grado di costruire un futuro produttivo. Una volta sattato tutto l'apparato industriale è visto che i comuni non creano industrie, le aziende, le mettono in privato. Allora, stiamo producendo davvero uno sforzo enorme, gigantesco. E la cosa straordinaria, questo è un unicum in Italia, è che tutta la trasformazione urbana della città di Salerno avviene nell'ambito di un piano regolatore, cioè di un disegno urbanistico definito dieci anni fa. Nessun intervento casuale. Fossimo stati in Francia o a Berlino o a Londra, avremmo avuto già il fronte di mare più bello del mondo. Presidente, alla fine il crescente si può costruire, i miei cittadini si chiedono di chi paga le spese di questo ritardo. Lei? Perché i comitati che si divertono a far perdere tempo scaricano i costi del loro divertimento sui cittadini. Le pagano quei duemila giovani che avrebbero potuto essere messi al lavoro. Le paga il comune perché non aver potuto utilizzare mille posti auto di parcheggio ha rappresentato un danno economico enorme. Le pagano i commercianti che non hanno avuto la possibilità di richiamare consumatori avendo un parcheggio straordinario a disposizione. Però qualcuno si è divertito per quattro anni.